Forza Italia continua la sua linea di opposizione sulle argomenti economici, immigrazione, politica estera, che siamo sempre stati totalmente contrari alla linea di Renzi. Purtroppo è sempre stata sottolineata la collaborazione sugli unici due temi sui quali cooperavamo, cioè le riforme istituzionali, la legge elettorale. Oggi questo passerà sicuramente quantomeno in secondo piano e apparirà la nostra linea con delle proposte molto concrete sull'economia, sulla politica estera, sull'immigrazione che fino ad oggi sono state messe in ombra.